Ciao a tutti, intanto Clip è una fotocamera da polso che appunto si indossa come un bracciale e permette di fare sia foto che video direttamente dal polso. Il funzionamento è molto semplice e praticamente con un click direttamente dal braccio posso scattare una foto. Tenendo premuto invece riesco a registrare un video con audio. Clip nasce appunto dal bisogno, da risolvere il problema di utilizzare una fotocamera a mani vuote. Quindi sostanzialmente avere la possibilità di registrare un video o una foto e quindi catturare un momento, un attimo senza avere appunto il bisogno di avere altri dispositivi tra le mani. Da quando è nata l'idea si è cominciato a fare appunto una ricerca di mercato per capire se esisteva un qualcosa del genere che poi risolvesse questo problema. Non c'era, quindi abbiamo continuato a fare delle ricerche e capire poi la fattibilità del progetto. Io insieme al mio socio che appunto si occupa di tutta la parte tecnica che diciamo ha sposato completamente l'idea e il progetto abbiamo cominciato da lì a progettare dei primi prototipi e a capire effettivamente come poteva essere risolto il problema. Abbiamo fatto una prima raccolta fondi per fare una produzione e saremo sul mercato entro la prima metà del 2019. Il nostro sito web è www.clipwearable.com e invece per i preordini possiamo fare riferimento a questa piattaforma americana che è indiegoco.com, basta scrivere i clip e ci trovate.